Ciao a tutti, oggi vi mostriamo come montare correttamente la panna utilizzando panna vegetale, panna fresca da montare, panna fresca con panna fix e latte con dolce neve per montare la panna vegetale utilizziamo gli stessi accorgimenti generali che utilizziamo per gli altri tipi di panna quindi mettiamo la panna per almeno 8 ore a 4 gradi di temperatura e mettiamo anche in congelatore il recipiente dove andremo a montare la panna quindi sia la panna che il contenitore devono essere ben freddi in questo video vi mostriamo come montare la panna utilizzando il frullino elettrico utilizzando l'impastatrice planetaria è più semplice montare la panna in quanto l'impastatrice planetaria ha la capacità di incorporare una maggior quantità di aria all'interno della panna ma per piccole quantità di panna come in questo caso 250 millilitri consigliamo l'utilizzo di un frullino quindi per grandi quantità di panna al di sopra del mezzo litro consigliamo l'utilizzo dell'impastatrice planetaria per piccole quantità di panna consigliamo l'utilizzo del frullino elettrico frulliamo alla massima velocità fino a quando non notiamo che la panna tende a staccarsi dal bordo del contenitore portiamo la panna vegetale nella sac a poche e vi mostriamo tre decorazioni con questo tipo di panna confronteremo le decorazioni con i diversi tipi di panna per farvi notare la differenza passiamo alla dolce neve andiamo a montare 225 millilitri di latte fresco con 75 grammi di dolce neve equivalente a mezza porzione anche in questo caso latte ben freddo e contenitore portato nel congelatore il dolce neve è un preparato già zuccherato e serve per addensare il latte e avere una consistenza simile alla panna montata frulliamo subito alla massima velocità per evitare la formazione di grumi quindi vi consigliamo l'utilizzo di un recipiente profondo grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Ed ecco le stesse decorazioni utilizzando il dolce neve. Ora utilizziamo la panna fix. Mescoliamo un cucchiaio e mezzo di zucchero a velo con una bustina di panna fix. Montiamo 200 ml di panna fresca ben fredda in un contenitore portato al congelatore. Quando la panna inizia ad addensarsi, aggiungiamo la panna fix con lo zucchero a velo. La panna fix è un addensante per panna da montare che serve per evitare che la panna si smonti. Contiene amido e la sua funzione è proprio quella di eliminare il principale difetto della panna montata fresca. La portiamo nella sacca a poche e realizziamo le decorazioni. Ora montiamo 250 ml di panna fresca. Anche in questo caso panna a 4 gradi e contenitore raffreddato nel congelatore. Con la panna fresca bisogna fare attenzione a non frullare troppo per evitare che la panna si trasformi in burro. Inconveniente è che si potrebbe verificare anche nel caso in cui la panna non sia abbastanza fredda. Quando inizia ad addensarsi, aggiungiamo un cucchiaio e mezzo di zucchero a velo. Se utilizziamo lo zucchero semolato, dobbiamo aggiungerlo fin dall'inizio per essere sicuri che si sciolga completamente. Con la panna montata fresca e il latte montato con la dolce neve possiamo creare delle bellissime decorazioni per guarnire dolci e torte. Si raccomanda però l'uso per piccole decorazioni in quanto sensibili alla temperatura ambientale e soprattutto alla temperatura delle mani quando utilizziamo la sac à poche. Questi due prodotti tendono a sciogliersi. E ora creiamo le decorazioni anche con la panna fresca. La panna montata vegetale è sicuramente la soluzione migliore per quanto riguarda le decorazioni e con il passare del tempo tende a seccarsi mantenendo i contorni delle decorazioni ben definiti. La panna montata con la panna fix è un giusto compromesso tra il gusto della panna montata vaccina e la resistenza alla temperatura ambientale della panna montata vegetale. Se avete dubbi o domande su questo video vi chiediamo di inserirle in un commento anche soltanto per lasciare un saluto, dare suggerimenti o esprimere un cordiale apprezzamento. Vi chiediamo di cliccare mi piace e se non siete iscritti iscrivetevi al canale YouTube ItalianCakes e poi cliccate sulla campanella per non perdere nessuno dei nostri aggiornamenti. Grazie e arrivederci.